Ciao ragazzi, spero vada tutto bene, io sono il vostro Marco e finalmente oggi torniamo con una serie che io per la prima volta ho iniziato nel 2016. Ebbene sì, siamo nella nostra vanilla. Questa è letteralmente la seconda stagione della vanilla che non porta da veramente tantissimi anni. E secondo me questo, con la 21.20, può essere finalmente un ottimo nuovo inizio. Ovviamente game mode survival, difficoltà normale, non tocco nient'altro. Io non genero un mondo vanilla da veramente tantissimo tempo. Quindi benvenuti finalmente in questa nuova serie che porteremo all'interno del canale. Sono veramente felice di generare questo mondo. Questa serie qua sarà diversa rispetto a tutti quanti i video che portiamo in generale sul canale. E spero vi possa piacere. Mi ha generato... Non mi sembra un'ottima generazione questa, ragazzi. Per iniziare così su una vanilla. Calma, devo cambiare anche i tasti. Questa è una sorpresa che non mi aspettavo, perché mi ha generato a fianco doveva un posto. Ok, credo che questa cosa qui sia veramente atipica nella generazione di un mondo. E mi sta pure inseguendo quel pillager. Non partiamo con il pene giusto. Meno male che non sono partito in hardcore, ragazzi, perché sennò sarebbe stato un grandissimo problema. Bentornati all'interno della vanilla. Io, come vi ho detto nella intro, non genero un mondo vanilla da veramente tantissimo tempo. Soprattutto ho perso praticamente le ultime versioni, escluso tutto quanto quello che ho giocato nella big vanilla, ma sappiamo lì un po' come è stata tutta quanta la serie. Diciamo che non gioco in una vanilla single player da anni. Veramente è una roba incredibile. E soprattutto negli ultimi paio d'anni mi sono perso tantissimi aggiornamenti di tutto quanto quello che ho aggiunto. Il pillager là in fondo credo che mi abbia abbandonato, quindi ottima cosa. In questa vanilla voglio portare tantissimo tra costruzioni, tra, diciamo, intrattimento dove possiamo parlare di qualunque cosa voi venite qua sotto nei commenti. E anzi, mi servirà veramente tantissimo il vostro aiuto. Perché non conoscendo tante cose che hanno aggiunto, voglio impararle in compagnia vostra. Voglio che questa sia una serie sia mia che appunto vostra. Quindi mi piacerebbe lasciarvi anche il download del mondo ogni tot tempo. Mi piacerebbe veramente tantissimo come cosa. Come mi piacerebbe, per esempio, creare il commento del giorno. Cioè un commento che grazie a me mi ha dato una mano, oppure un commento bello, carino, e sia bello da mostrare all'interno del video. Quindi ci terrei veramente tanto. Ed è una cosa che non vi chiedo da mesi, credo, se non forse anche più di un anno. Il perché mi seguite. È una cosa che tengo veramente tanto a sapere. È un periodo strano su YouTube, non lo metto in dubbio, ragazzi. E questa voglio iniziare una nuova serie vanilla. Ce l'ho da un po' di tempo. E secondo me è questo momento appunto perfetto. Perché aggiungendolo 1.20, versione a cui ho fatto anche una live in collaborazione con Microsoft, mi è ritornata un po' quella cosa per dire riproviamoci. Mi piacerebbe riportare una vanilla. Mi piacerebbe riportare il mio serie di costruzioni che vi è piaciuto tantissimo tanti anni fa. Non so se mi seguite a tutto quanto quel tempo. E quindi ho detto riproviamoci e portiamola per i ragazzi. Però in questo momento voglio prendere un po' di legno. E questo qui, ragazzi, è il mio legno preferito. Lo spruce log che a me piace tantissimo. Vorrei anche fare un po' di item. Almeno siamo un po' più tranquilli. Cercare un bioma un po' più mio. Perché diciamo che il bioma della taiga mi piace. Questo qua dei ghiacci è super particolare. Soprattutto quel ponticello di neve è bellissimo. Però vorrei trovare qualcosa di un po' più chill. Anche perché, per dirvi, io non sono ancora mandato nelle nuove caverne. Entendo per nuovo quelle con la nuova generazione che sono gigantesche. E di conseguenza vorrei esplorarle anche in compagnia vostra. Io non so neanche fare un salto alcune volte. E mi serve trovare anche qualche animale che io non ho ancora trovato. Ehi, mi serve veramente qualche animale. Perché non ho cibo e gli mancano già tre cosciotte. Vabbè, pensiamo a te la prima crafting table. Perché è una situazione molto strana non trovare neanche un animale nei primi tre minuti. Non c'è letteralmente neanche un animale. Ma hanno cambiato la generazione dei mob. Perché non ho trovato un singolo pollo, una mucca, una pecora. Nel raggio di nessun blocco. Non ce ne sono. Ma com'è possibile? Uh, 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 finalmente. Abbiamo dei conigli. Con calma. Mici conigli, mi serve veramente la vostra carne. Perché qua abbiamo un bisogno veramente gigante. Salve, buongiorno. Mi serve anche la sua... Sarei il mio primo animale domestico. Te lo assicuro che decideranno i ragazzi nei commenti il tuo nome. Ma sei veramente molto gentile. Grazie mille. Mi serve anche del coal. Mi serve anche della cobblestone. Quindi picconiamo tutto quanto per bene. Ripartire così comunque mi fa salire un po' quelle vibe che avevo nel 2013. Quando per la prima volta mi approcciavo a Minecraft. E la cosa divertente è che non so se ho mai raccontato. Ma la prima notte che ho giocato a Minecraft. Perché mio amico me ne parlava veramente tantissimo. Non era conoscenza dei creeper. Non era conoscenza degli scheletri. La cosa funny è stata che mentre giocavo al buio mi sono trovato questo mob spaventosissimo davanti agli occhi. Ed era questo creeper. È esploso. Io ho avuto paura di giocare a Minecraft. Manco fosse Five Nights at Freddy's. Per tre settimane. Cioè io l'ho proprio evitato questo gioco. È stata una situazione... È una sensazione stranissima. Tra il mio mob del genere contro. Ma lasciamo perdere. Ora non ho più paura di giocare a Minecraft. Credo. Ma l'unica cosa che dico paura è che io rimanga senza cibo. Soprattutto in piena notte. Adesso che già è passata metà della giornata su Minecraft. Facciamo così. Prendiamo questa cobblestone. E dirigiamoci magari in un punto un po' più verde. Perché in realtà io vorrei trovare da qualche parte uno spunticino. Per poter costruire anche magari una piccola casettina da qualche parte. E come vi ho detto anche in la intro. Ho bisogno tantissimo dei vostri consigli. Quindi a me piacerebbe anche creare un libricino. Dove scrivere i commenti delle persone. Almeno il nome. E almeno salvare ogni volta la persona che mi dà il consiglio. Creare una stanza. Dove chiamarla la stanza dei consigli. Dove mettere tutti quanti i vostri nomi giorno per giorno. Là c'è un altro coniglio. Vieni qua campione. Spero che vi piaccia anche il mood. Perché registrare una vanilla è diverso rispetto a registrare qualunque altro tipo di video. Si ha diciamo un'altra impronta. Ed è veramente difficile registrare in modo quasi diverso appunto. Spero vi piaccia il mio intrattenimento durante questa vanilla. Ovviamente sono aperto a qualunque tipo di consiglio questo nei commenti. L'unica cosa è che ho fatto questo mondo. L'ho generato in 1.19.4. Anche se in realtà avrei voluto generarlo in 1.20. Con la pre 1.20. Ma molti mi hanno consigliato in realtà di aspettare un pochino. Perché siamo ancora in pieno snapshot. Anche se la versione a momenti dovrebbe uscire. E non ne valeva onestamente la pena. Va bene. Ci posso anche stare. L'unica cosa è che io più avanti vorrei fare anche tante piccole cosine. Molto particolari da vanilla. Per chi mi ha visto la prima 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 vanilla single player che ho fatto. Roba di tantissimi anni fa. Praticamente fino al 2018. Sa di cosa sto parlando. Perché a me è sempre piaciuto tantissimo costruire la vanilla. Magari più avanti. Nei prossimi giorni potrei portare un tour del mio vecchissimo mondo vanilla. Era veramente veramente bellissimo. Era stra particolare. Costruzioni gigantesche. Robe assurde. Che mi piacerebbe onestamente riportare. Qua c'è del koal. Che mi servirebbe. Koal? No. L'abbiamo anche un po' di orsi polari. Che per chi non lo sapesse sono uno dei mob preferiti di Marci. Ma di pianure neanche l'ombra. Ho visto più orsi polari che alberi in questo momento. Là c'è un altro per esempio. Beh credo che avevo molto da camminare. L'unica cosa è che vorrei almeno trovare o un villaggio. O una pecora. Che mi potrebbe servire almeno per creare dei letti. Perché sennò sono già così in piena notte allo sbaraglio. Questo non è per niente bello. No. Datti una calmata per favore. Ah è una cosa a cui tengo tanto nelle vanille. È sempre tenere i primi item che crafto. È una cosa a cui tengo veramente tanto. Ho sempre avuto questa roba. E la voglio tenere anche in questa stagione. di creare delle stanze dei ricordi. Dove all'interno manteniamo la prima ascia. La prima spada. Il primo piccone. La prima armatura. In ferro. In diamante. E così via. È una cosa a cui tengo sempre veramente in modo molto particolare. Come anche magari il dare nome agli oggetti. Grazie ai vostri consigli. Quindi devo stare attento a non finire quell'ascia del tutto. Perché sennò vado direttamente. Mando in vacca. Qualunque tipo di idea abbia appena annunciato. E là in fondo ci sono delle canne da zucchero. Che sono nate nella neve. Ok Minecraft. È migliorata la generazione delle caverne. Ma questa è un po' strana. Uh c'è una pozza di lava. Carino. Via. Uno. E via due. Quello è un igloo. Uh. Interessante. Comunque come vi ho detto all'inizio del video. Per me è molto importante sapere da quanto mi seguite. Cosa vi piace di più vedere anche entro nel mio canale. Ci terei veramente tanto a leggere tanti commenti da parte vostra. Vorrei leggerli anche durante il prossimo video. Della vanilla. Mi piacerebbe proprio capire cosa vi spinge ogni volta a seguirmi. Magari aprire il mio video. Non lo so ragazzi. Un commento che mi piacerebbe. Come mi piacerebbe che questo qua fosse un vero igloo. Ma non lo è. Bene. Siamo un po' in pericolo. Ma ci piace così. D'altronde chi non si metta a cuocere gli oggetti sopra una lastra di ghiaccio. Con un orso polare così davanti. Tutti no? Con queste ultime planks mi sa che mi tocca anche costruire una piccola zona. Dove potrei sentirmi più o meno tranquillo e safe. Quindi costruiamola per esempio qua. Almeno lasciamo passare la notte. Siamo in pieno giorno. Meno male. L'ho costruito proprio bene questo bunker. È un po' pessimo. No legno dove stai andando? Vieni qua. No. Hai fatto un messaggio sull'orologio. Dannazione. Ma è la distesa di ghiaccio più lunga del mondo. No, no, no. Perché c'è un guardian? Ma. Ma in che seed sono uscito? No, 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 no. Ma, scusate, mi sono spawnato a fianco di un posto e a un monumento oceanico? Sì, la penso anch'io. Uguale a te la penso. Uguale. Facciamo lo screen subito di queste coordinate, per favore. Eh, non so cosa dire, ragazzi. Cioè, è letteralmente il primo seed che ho generato in 1.19.4. Non avevo mai generato... Non so se è una normalità. Dubito. Però, ok. Vedo la terraferma. Ottimo. Più o meno, dato che ho sacrificato un'ascia per fare questa roba qua. E non una qualunque. La mia prima ascia. Oh, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi servite? Soprattutto grazie della vostra lana. Ci tengo veramente tanto a ringraziarvi da giorni che mi supportate. Ma grazie mille. Ma quanta lana. Quattro pezzi di lana. Ma c'è anche un quinto, probabilmente. Ma anche un letto matrimoniale facciamo. Ma ancora più bello. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Ma anche la vostra carne mi donate. Incredibile. Io vorrei un attimo continuare l'esplorazione. Perché vorrei trovare magari un... No, no. Non ancora ghiaccio, vi prego. No, basta. Non è possibile sta cosa. Non è possibile. Ma hanno ampliato i biomi. Non lo so. No, no, no. Scusa. Scusami. Veramente. Scusa. Dicevo. Hanno ampliato i biomi? Perché, cioè... Un po' esagerata come cosa. Mi viene da pensare che debba trovare un riparo in queste zone. Solo che non mi ispira come parte di mondo. Cioè, sono belle le precarietà le montagne nevate. Solo che, non lo so, non mi va di costruire una casa, un avamposto qua in queste zone. È una parte di mondo che non mi ha mai ispirato. Magari le taighe senza neve, sì. Però quelle con tutta quanta questa neve non è che mi facciano tanto impazzire, onestamente. Signora Pecora, grazie. Sto diventando ancora notte, veramente. Uh, fermi. Voi mi servite per le piume? Grazie. Buongiorno. Oh, quindi stiamo praticamente piano piano scoprendo che esiste veramente un mondo al di fuori di tutta quanto quel ghiaccio. Uh, villaggino. Ok. Io questo stonecutter qua me lo voglio prendere anche se no non credo di averlo mai utilizzato in vita mia. Quindi non saprò come si utilizzerà. E avrò bisogno dei vostri consigli. Quello là invece è un vero e proprio igloo. Finalmente ne abbiamo trovato uno. E se c'è un letto rosso lo voglio rubare perché a me piace molto di più il letto rosso rispetto a questo qua. Bianco. Vabbè, mi sono rubato solamente un letto rosso. Dai, non ce lo voglio andare fino all'igloo. Magari ci andiamo nei prossimi episodi. Ma là in fondo c'è della neve che sta volando. Ottimo. Uh, c'è un portale del nether anche. Carino. E mi sa che là finalmente vedo delle montagne con una bella plains. Finalmente. Ah, c'è un altro villaggio. Oh, doppio villaggio in questo primo episodio. Molto bene. Diciamo che sono stato molto fortunato se non per quel monumento oceanico. Uh. Mela d'oro. Nuggets. Poi piedini. Quanta roba ragazzi. Abbiamo già anche un set di diamante. D'oro. Posso anche già rubaccarmi quindi questo blocchettino qua d'oro? Quanto... Che incianta hai? Uh. Ehm. Wow. Ragazzi, ma che inizio di serie è questo? Sta? Il blocco d'oro non può essere rotto da un piccolo d'oro? Ok. Ho appena fatto una nabbata, credo. Ma non lo sapevo davvero. Ok. Ragazzi, direi che abbiamo trovato, credo, quello che cercavamo. Perché in fondo vedo una bella montagna anche con una bella... Con un bel ingresso di caverna là dentro. Episodio e serie a quanto particolare. Scopriremo assieme il coso che ci vedrà nei prossimi episodi. Spero che questo primo video qua vi sia piaciuto, ragazzi. Noi ci fermiamo qua. Ciao.